E adesso lo sport con il volley, i quarti di Champions. Ieri sera la Diatec ha perso gara 1 per 3 a 1 con Civitanova. I parziali 25 a 22, 23 a 25, 25 a 19, 28 a 26. In vantaggio nel quarto set la squadra di Lorenzetti ha perso l'occasione per giocarsi il tie break e guadagnare almeno un punto. Errori determinanti e sentiamo il rimpianto nei commenti a fine partita nel servizio di Franco Pistolato. Tanto rammarico per questo 3 a 1 a Civitanova sarebbe bastato poco per cogliere almeno un punto tranciante il giudizio di Capitan Filippo Landa. Sì, giochiamo bene ma questo è un dato di fatto. Noi giochiamo bene ma non vinciamo mai. Quindi è un peccato perché ci vorrebbe quella cattiveria da non prendere l'ace finale negli altri set, con la cattiveria andare a chiudere la partita o il set che cambia la storia, cambia la sorte. Errori nei momenti topici anche in Champions è successo spesso quest'anno ma lo sguardo è già avanti. In questo quarto set abbiamo avuto tante occasioni che abbiamo sbagliato e così alla fine abbiamo perso. Secondo me non è una brutta partita ma abbiamo sbagliato troppo. Secondo me possiamo fare meglio a casa e andiamo a vincere a casa. Il tecnico Angelo Lorenzetti loda l'opposto Teparon che poco prima di entrare in campo ha dovuto sostituire Vettore bloccato dal mal di schiera. Ha fatto tutto quello che è stato chiesto e ha fatto vedere che il lavoro per lui paga.